Di Levin Weitschat non si hanno più notizie da venerdì 9 agosto, giorno in cui lo studente ha inviato alla sua famiglia una sua foto dopo aver deciso di intraprendere un'escursione in solitaria sul Gran Sasso. Da allora, del 25enne tedesco in Italia per studio con il progetto Erasmus presso la Facoltà di Scienze Forestali di Padova, si sono perse le tracce. Ieri, la notizia del ritrovamento del suo zaino in località Calderone, battuta in serata dalle agenzie ed erroneamente ripresa dagli altri organi di informazione, aveva riacceso le speranze, ma l'equipaggiamento rinvenuto dai vigili del fuoco dell'Aquila, impegnati nelle operazioni di ricerca insieme ad altri volontari e alle forze dell'ordine, non apparterebbe al 25enne. La smentita arriva per il tramite di Alessia Natali, presidente dell'Associazione Penelope, che fornisce supporto a famiglie e amici delle persone scomparse direttamente dagli amici dello studente tedesco, impegnati volontariamente da giorni nelle ricerche del ragazzo. A essere battuta è soprattutto la zona nei pressi del Monte Camicia, dove l'EU Invite to Shut sarebbe stato avvistato per l'ultima volta, ma le ricerche vanno avanti sull'intero bacino del Gran Sasso. Anche il rifugio Franchetti, tramite la propria pagina Facebook, ha condiviso un appello con le informazioni utili per individuare il giovane universitario, capelli lunghi e occhi castani, che al momento della scomparsa indossava un pile blu. Chiunque possa avere informazioni utili può contattare il numero 333-1444-264. E sempre sulle montagne aquilane vanno avanti anche le ricerche di Marco Benso, l'ottantotenne di Rocca di Cambio, di cui si sono perse le tracce lo scorso 29 luglio. Ex dirigente di una multinazionale, ora in pensione, l'uomo era stato visto al bar del paese dove aveva consumato un caffè. Poi, senza documenti e cellulare, potrebbe aver perso l'orientamento mentre tornava verso casa, percorrendo la strada vecchia che dal paese porta all'Aquila, dove sarebbe stato avvistato, secondo una segnalazione, lo scorso 14 agosto.